Cancellata al Senato la norma sui precari degli enti locali siciliani, ma Baccei spiega che è saltata solo la stabilizzazione. Il Tar di Palermo ha respinto il ricorso contro la zona a traffico limitato istituita dal Comune, la ZTL resta dunque in vigore. Maltempo, la Sicilia messa in ginocchio da violenti nubi fragi, strade allagate a Catania e scuole chiuse. Buonasera, ben trovati all'edizione di Media News di mercoledì 7 dicembre. La crisi di governo e l'accelerazione dei lavori della legge di stabilità cancellano al Senato la norma sui precari degli enti locali siciliani, ma Baccei spiega che è saltata soltanto la stabilizzazione e che a giorni sarà firmata la proroga dei contratti per un anno. Vediamo. In Senato è saltato l'emendamento che avrebbe consentito la stabilizzazione dei precari degli enti locali. L'accelerazione dei lavori della legge di stabilità dovuta alla crisi di governo post referendum ha fatto accantonare tutte le norme aggiuntive, fra cui quello che riguardava la Sicilia. Il governo regionale corso subito in ripari e ieri sera la Giunta ha messo in atto la manovra di emergenza per i circa 13.000 precari dei comuni. L'assessore all'economia Alessandro Baccei ha comunicato che non perderà il posto nessuno e che tutti avranno la proroga. Baccei ha anche assicurato che la norma cancellata in Senato verrà riproposta al nuovo governo. Quindi la proroga dei contratti che resta di competenza regionale verrà inserita nella prima parte della manovra economica che dovrebbe essere approvata entro fine dicembre all'Ars. Le proroghe dei precari, ha detto Baccei, sono collegate alla dichiarazione dei suberi nel settore delle province. Abbiamo calcolato che un 15% del personale delle province va trasferito e la finanziaria regionale prevede la mobilità verso enti statali e comuni. Nell'attesa dei trasferimenti scatta una proroga di tutti i contratti che varrà fino alla fine del 2018. È una proroga che salvi i precari dei comuni e il personale delle province. Per i contrattisti dei comuni in dissesto, Baccei ha previsto subito l'assunzione alla Resais. Il Tar di Palermo ha respinto il ricorso contro la zona traffico limitato istituita dal comune. La ZTL resta dunque in vigore. La ZTL resta in vigore. I giudici della terza sezione del Tar di Palermo hanno respinto la richiesta di sospensiva presentata dalle associazioni Bispensiere e Vivo Civile e dalle associazioni di categoria da Confcommercio a Confartigianato contro la zona traffico limitato istituita dal comune. Il ricorso è stato presentato per chiedere la sospensiva di numerosi provvedimenti emessi al comune e dal Consiglio comunale per dare vita alla zona traffico limitato nel centro della città. Un provvedimento, affermano i ricorrenti, contestato aspramente dai commercianti. Secondo i giudici amministrativi, comunque il comune, riducendo il perimetro, avrebbe garantito un adeguato numero di mezzi pubblici alternativi. La crisi del commercio, altro tassello sul quale puntavano i ricorrenti, non sarebbe legata alle misure anti-smog. A breve saranno rese note le motivazioni della decisione. I ricorrenti potrebbero impugnare il verdetto davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Intanto, il commento di Giusto Catani, assessore alla mobilità del comune di Palermo. Una buona notizia per la salute dei palermitani. Adesso ascoltiamo il commento dell'avvocato Alessandro Dagnino, illegale rappresentante di cittadini e associazioni contro la ZTL, che aveva presentato la richiesta di sospensiva del provvedimento. Vorrei innanzitutto sottolineare che il TAR non ha in effetti respinto il ricorso, il TAR ha respinto l'istanza cautelare, quindi il ricorso è sempre in piedi, quindi il TAR dovrà nuovamente pronunciarsi su questo ricorso. Ha deciso, nella giornata di oggi, di respingere l'istanza cautelare, cioè di non concedere la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva e quindi di lasciare nell'emore della decisione che verrà fatta nel merito ha deciso di non sospendere l'efficacia esecutiva della ZTL. Quindi la ZTL resta in vigore, ma resterà in vigore fino alla data della decisione di merito. Quali sono gli argomenti che il TAR ha adotto a sostegno della propria decisione? Ha sostanzialmente il TAR ritenuto che alla data odierna, allo Stato, dice testualmente il giudice amministrativo, non risulta adeguatamente provato che il Comune non abbia potenziato il trasporto pubblico locale. Quindi non sembrerebbe allo Stato, dai documenti considerati e della situazione esaminata nella fase del giudizio, nella fase cautelare, non sembrerebbe mancare un adeguato potenziamento del trasporto pubblico locale e quindi una riduzione della mobilità. Questo è il primo pilastro su cui si regge la decisione del giudice amministrativo. Il secondo aspetto è che non sembra al TAR che non si possa trascurare che il Comune in data successiva alla proposizione del ricorso abbia ulteriormente attenuato il rigore del provvedimento. Sulla questione ZTL interviene anche Marco Stassi, presidente di Adiconsum Palermo Trapani. La Diconsum Palermo Trapani non si è costituita in questa parte del ricorso. Già in effetti nella fase precedente era insieme alle altre associazioni. A un certo momento di qua ritenuto, ed è corretto che sia così, che il sindaco e l'aggiunta del Consiglio Comunale prendano sempre più dei provvedimenti che possano andare incontro alle esigenze dei cittadini. Il merito dei ricorrenti è quello nel tempo di affare fatto sì che il Comune di Palermo intervenisse nell'attinuare i disagi. Noi, così come abbiamo fatto, incalzeremo ulteriormente, saremo sempre lì vigili, perché in effetti per i commercianti sia delle zone popolari sia di via Roma, questa conferma, questa sospensiva, non dia al Comune l'alibi per poter non fare gli interventi che sono necessari affinché si creino i meno disagi possibili. Quindi è importante ribadire che non vi è una contrapposizione in questo caso rispetto al provvedimento della DTL tra chi aveva presentato i ricorsi e chi no. Ma assolutamente, perché ritengo che ovviamente andare in sede giurisdizionale o giudiziaria è ovviamente una prerogativa che chi la vuole esercitare la esercita. Chiaramente noi non ci troviamo sicuramente in una posizione di contrapposizione. Noi ritenevamo e riteniamo, così come abbiamo fatto anche con insistenza, presso il Comune di Palermo, che dovevano essere fatti dei passaggi come revisione dei regolamenti, interventi sui mezzi pubblici, il fatto che il Palermo sia un cantiere e quindi devono essere normalizzati in una certa situazione, ma sicuramente alla fine il cittadino, il consumatore, il commerciante va sovraguardato rispetto a questi provvedimenti che hanno come logica, in vigore anche in tutta Italia, la sovraguardia dell'ambiente. Maltempo, la Sicilia messa in ginocchio da violenti nubi fragi, strade lagate a Catania e scuole chiuse oggi in diversi comuni. Sicilia ancora sversata dal maltempo, colpite soprattutto le zone del Catanese, Siracusano e Messinese con bombe d'acqua e nubi fragi. Nelle ultime ore è scattata l'allerta meteo con codice arancione, e già sono state registrate le prime criticità. Strade allagate che diventano dei veri e propri fiumi e secondo le previsioni degli esperti, temporali e nubi fragi interesseranno l'isola ancora per tutta la settimana. Da ieri a Catania è stato attivato il presidio operativo che raccoglie le segnalazioni dei cittadini, coordinato dalla Protezione Civile e dal Comune, sotto controllo i punti più critici della città, con squadre di volontari per monitorare il flusso delle acque in canali e torrenti. La prima segnalazione è arrivata per un crollo in via Volturno, dove è avvenuto il cedimento di alcune parti di edifici di proprietà comunale, danneggiando anche un'auto parcheggiata. L'assessorato catanese al welfare si è immediatamente attivato per dare sostegno alle famiglie che occupano senza autorizzazione l'edificio. Il Comune di Catania raccomanda ai cittadini prudenza, evitare l'uso di motocicli e biciclette, in tilt, corso indipendenza, circonvallazione, via Felice Paradiso, piazza Cavour e la Tangenziale. La pioggia abbattente delle ultime ore non ha risparmiato nessun quartiere. Secondo il centro funzionale multirischio regionale, si prevedono fenomeni temporaleschi che potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, forte vento e mare localmente mosso. 32 anni fa la mafia uccise a bagheria Pietro Busetta, cognato di Tommaso Buscetta, l'ex boss dei Due Mondi che con le sue confessioni aveva aperto un varco sui affari e i misteri delle famiglie palermitane. Oggi la commemorazione. È il primo momento dopo 32 anni dall'assassino di papà che viene ricordato. E tutto quello che vedete oggi lo devo a una grande associazione che è libera, che mi è stata vicino negli ultimi tre anni e che onestamente sono veramente orgoglioso di far parte di questa grandissima famiglia. E grazie a loro sono riuscito ad avere questo momento di raccoglimento davanti a quello che è stato l'edificio di mio padre, perché mio padre era venuto a bagheria, perché credeva a bagheria e voleva fare impresa a bagheria. È uno dei due pilastri su cui si fonda l'azione di Libera. Oltre al tema dei beni confiscati noi siamo impegnati a cercare di ricordare le oltre 900 vittime di mafia che sono cadute come innocenti, quindi non solamente operatori delle forze dell'ordine, magistrati, ma anche persone comuni come la storia che ricordiamo oggi. È il principio che cerchiamo di affermare che dietro ogni nome, ogni storia di ogni vittima c'è una famiglia, ci sono dei familiari che si sono visti privati dei loro cari. Questo a prescindere dalla rilevanza pubblica di queste persone. E quindi il dovere della società civile, a nostro avviso, è quello nei giorni delle commemorazioni di essere presenti e di ricordare, ma non limitarci a questo, cercare di essere vicini alle famiglie e raccogliere la testimonianza dei familiari come i familiari di Pietro Busetta, facendone memorie anche con le scuole, con le giovani generazioni e costruendo attraverso questo un lavoro costante. La comunità bagherese non deve dimenticare che la mafia non è un fenomeno positivo, ma è un fenomeno negativo che crea disoccupazione, che crea povertà nel territorio in tutti i termini, anche in termini valoriali, e che soprattutto uccide. Quindi va ricordato che la mafia non lascia segnali positivi nel territorio. La comunità bagherese oggi lo sta ricordando perché Pietro, oltre ad essere un imprenditore, era anche nonno, era anche padre, era anche marito. E quindi c'è la famiglia che giustamente vuole ricordarlo. E noi ci uniamo attorno alla famiglia come comunità bagherese perché Pietro Busetta rappresenta una vittima di mafia, una vittima di mafia che è il ricordo di quanto la mafia può fare male. Il busto del giudice Paolo Borsellino torna nell'aiuola di fronte all'Istituto Alberghiero di Palermo, nel quartiere di Pallavicino. La statua, realizzata da uno studente dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, sostituisce quella vandalizzata nel giugno del 2014. Grazie a Paolo Borsellino e per chiederci ogni giorno se siamo degni con i nostri comportamenti del suo sacrificio. Il senso della nostra presenza qui è quella di confermare un impegno di querenza rispetto ai valori che hanno determinato il suo sacrificio. scusatemi la commozione ma abbiamo molto sofferto di fronte alla bruttezza del gesto che è stato compiuto e quindi oggi la commozione è l'anedrato della rabbia di ieri e oggi è diventata invece una commozione di gioia. Grazie. Grazie a tutti i colori che hanno reso possibile questo momento così bello e così intenso, così commovente come dice il sindaco, commuoversi, muoversi insieme. Il significato è sicuramente questo. Grazie a Davide, grazie perché ci hai fatto un dono straordinario. E' vero che Paolo è sempre con noi, ognuno ce l'ha dentro, ognuno ce l'ha gli occhi, nella mente, nel cuore, per un segno tangibile che ci permette di riconoscerne ogni momento, i lineamenti del volto, lo sguardo, l'espressione, quello che esprimeva con tutto il suo volto e con tutto il suo sguardo. Mi colpisce in particolare questo sguardo così profondo. Questo è un dono che ci ha fatto lui, con la sua arte, con la sua bravura, con la sua passione. Fare un'opera così vuol dire che dentro ci ha messo tutto quello che aveva, e forse qualche cosa di più che non sapeva neppure di avere. Io ti ringrazio anche a nome di questi ragazzi. Io forse mi illudo, ma vorrei che questa strada di Paolo diventasse un luogo dove la gente venga a trovare Paolo. È così forte l'intensità con cui Davide ha saputo rappresentare, proprio gli occhi di Paolo, proprio il viso di Paolo, proprio il sorriso di Paolo, che io vorrei che questo luogo diventasse un luogo di pellegrinaggio per Palermo, dove è proprio in questa piazza bellissima, come Paolo voleva che diventasse Palermo. Si rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall'AIL nei giorni 8, 9, 10 e 11 dicembre. In programma infatti la ventottesima edizione dell'iniziativa Stelle di Natale. Vediamo. Si rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Nei giorni 8, 9, 10 e 11 dicembre in programma la ventottesima edizione di Stelle di Natale AIL, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. La manifestazione è realizzata grazie all'impegno di migliaia di volontari che offriranno una piantina natalizia a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro. L'iniziativa ha permesso negli anni di raccogliere significativi fondi destinati al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di assistenza sanitaria e ha contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, compreso il trapianto di cellule staminali, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere nuovi obiettivi e rendere le eucemie, linfomi e mielomi sempre più guaribili. I fondi raccolti saranno impiegati per sostenere la ricerca scientifica, finanziare il gruppo italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto, cui fanno capo oltre 150 centri di ematologia, collaborare al servizio di assistenza domiciliare per adulti e bambini, realizzare casello Gioail nei pressi dei centri di terapia per ospitare i pazienti non residenti e permettere loro di affrontare i lunghi periodi di trattamento e infine promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio. Per scoprire dove trovare i gazebo e acquistare una stella di Natale Ail basta collegarsi al sito www.ail.it Dal 10 al 13 dicembre prossimi, nei locali del complesso monumentale di Santa Cita a Palermo, la manifestazione Santa Lucia, la notte della luce. A promuovere l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, il Genio di Palermo, in collaborazione con la cooperativa Pulcherrima, res le interviste. Presentata a Santa Cita la notte della luce, dal 10 al 13 dicembre, quattro giorni dedicati a Santa Lucia, organizzati dal Genio di Palermo e dalla cooperativa Pulcherrima, res. Quest'anno Santa Lucia ha una connotazione ancora più, come dire, culturale degli altri anni. Si svolgerà in quattro giorni, dal 10 al 13. Siamo, devo dire, orgogliosi di avere pensato a questa mostra molto particolare che è una tradizione molto antica nella regione Sicilia, che è quella della ceroplastica. Grazie al professore Correnti, uno dei più grandi ricercatori da questo punto di vista, abbiamo avuto questi pezzi meravigliosi che si potranno visitare a partire da giorno 10 e che rimarranno esposti per tutto il periodo natalizio. Abbiamo previsto un ticket simbolico, perché cinque chiese con una guida specializzata che parlerà loro per circa un'ora, un'ora e mezza, dedicherà loro del tempo, quindi saranno delle passeggiate vere e proprie, avranno un costo di 6 euro. Prenotare, ovviamente, è consigliabile. Abbiamo a disposizione sia i canali telefonici che la pagina Facebook, che è Sant'Anna d'Usciria, la notte della luce, che vi invitiamo proprio a consultare, perché potete trovare tutti gli appuntamenti calendarizzati in maniera chiara ed esaustiva. È tutto, grazie per l'attenzione. Come sempre vi do appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti.